È tutto così perfetto. Viviamo in un posto magnifico. Adoro questa vita. Il calcio a Cava dei Tirreni attecchisce sempre. Dopo la prima partita giocata martedì tra Russia e Argentina, nella trentesima università di ieri sera si è vista più gente allo stadio Simonetta Lamberti di Cava. Di scena l'Italia padrona di casa e l'Ucraina. 2-0 per gli azzurri il risultato finale. Hanno deciso nel primo tempo su due calci piazzati i gol di Mercadante, difensore del Monopoli, e di Strada, attaccante ex Adrense e Lucchese. Ma gli ucraini sono rimasti in dieci per l'espulsione di Dumanyuk. Così l'Italia si è qualificata ai quarti, come prima del girone, con sei punti in due partite. Ma al di là del risultato, tifo correttissimo a Lamberti. Circa 800 spettatori, presenti tra gli altri il sindaco di Cava Vincenzo Servalli. Si è vista anche una vecchia conoscenza della cavese in ambito dirigenziale, l'avvocato Francesco Maglione. Ma è presente anche la squadra di calcio femminile. Le ragazze in particolare hanno fatto un tifo infernale. Sono in pratica loro le prime tifose dei loro colleghi maschi. Sentiamo ora i due CT, Anatoly Busnyk per l'Ucraina e Daniele Arrigoni per l'Italia. Penso che la prossima gara sarà decisiva per dare una risposta. Il Messico è una buona squadra. Dovremo lavorare per risolvere alcuni problemi che abbiamo. Prenderemo le opportune decisioni, ma sono sicuro che faremo un passo avanti. Intanto passare al primo posto non era molto importante. E in più è la risposta che ho avuto da quelli che non hanno giocato l'altra partita. Io le ho detto sin dall'inizio che facevo delle scelte per portare gente motivata. Secondo me ho una rosa di 20 ragazzi che hanno un discreto equilibrio fra loro. Secondo me non ci sono delle punte cense ma sono tutti di buon valore. Ho fatto la scelta di fare quasi due formazioni diverse e andrò avanti così fino alla fine. Oggi a Cava Stati Uniti Giappone, calcio femminile con inizio alle 18. Tutte e due sono nel girone dell'Italia. Altre discipline. Nel nuoto ai 100 metri rana ieri ha vinto l'oro un americano, Jan Fenerti, seguito dal russo Kirill Priguda e dal giapponese Yuya Inimoto. Nel sincroma skill di tuffi, primo posto per i cinesi. Alla palacanestro Italia batte Norvegia, riscatta quindi la sconfitta col Canada. Nella pallavolo femminile vince l'Italia 3-0 sugli Stati Uniti. Nella ginnastica le italiane hanno conquistato un bronzo. Inoltre Carlotta Ferlito gareggerà domani nella Final Eight, ma la soddisfazione ieri è giunta dal fioretto femminile. In questa disciplina schermistica Elena Cipressa ha sconfitto la francese Morgane Patroux e si è vinta la medaglia d'oro mostrando notevole forza caratteriale.